Per visualizzare le tue fatture elettroniche non ancora inviate, clicca su Fatture attive in lavorazione sotto al menu Fatturazione elettronica. Qui trovi le fatture in vari stati. Da firmare, ovvero pronte per la firma. Sospese, ovvero da verificare. In attesa di estrazione dati, ovvero quelle importate in PDF ma ancora non convertite in formato digitale. Da modificare, ovvero importate da XML ma con alcuni errori evidenziate in rosso. In alto trovi varie possibilità di filtro per ricercare le fatture. Data creazione, numero o data fattura, partita IVA o ragione sociale del destinatario, stato. Puoi selezionare più fatture oppure tutte quelle presenti nella schermata e firmarle o inviare alla firma. In base alle tue abilitazioni presenti nella sezione Gestione profili. Inoltre, su ogni singola fattura puoi eseguire operazioni specifiche. Firma o invia alla firma. Modifica. Elimina. Vedi firmatari. Stampa. Bup. Ilimina. Let профilare. Ilimina.